Sicurati per Paolo Pasolini, in tutti gli artisti destra sempre qualcosa di particolare. Sicuramente sì. Io vi ringrazio innanzitutto per, in particolar modo l'amico Mario, per avermi invitato a questa grossissima rievocazione storica. Io vorrei ricordare Pasolini con un pezzo, diciamo così, del monologo che Marco Antonio fece sul corpo di Cesare. Se me lo consentite, lo ricordo, poche righe, poi dopo ne riparleremo ancora perché reciterò una sua poesia. Grazie. Siccome io sono vestito così e Marco Antonio ci aveva staffare in questa maniera, allora Marco Antonio dice, scusami ti ricordi i vecchi romani, no? Allora inizia dicendo, amici romani, le ho l'occhiali perché Marco Antonio non ce l'aveva, la ho l'occhiali, no? Amici romani, compatriotti uditemi. Sono venuto per seppellire Cesare e non per lodarlo. Il male che gli uomini fanno vive dopo la loro morte. Il bene viene troppo spesso sepolto con le loro ossa. Per questo permettetemi, amici, che io sia dalla parte di Cesare ed io dalla parte di Pasolini. Grazie.